eccoci qui nuovamente nel 1784 abbiamo detto c'è stato questo tentativo su cui i due due degli personaggi che rappresentano un po la storia del monte bianco assieme fanno un tentativo nel 1784 abbiamo detto sono burria paccard abbiamo anche già parlato delle caratteristiche due personaggi paccard è comunque che sembra essere più determinato non si dà per vinto e sempre nello stesso anno compie una approfondita esplorazione del colle del gigante e del bacino dell'isciò che sono due settori diversi rispetto a quelli che abitualmente sono stati utilizzati nei vari tentativi di esplorazione in questo senso lo fa con una sempre con un cacciatore locale si chiama pierre balmat e mi soffermo un secondo se avete notato nei vari tentativi quelli che fa paccard sono gli unici che lui fa insieme a un altro cioè non non organizza dei gruppi delle guide eccetera ma quando lo fa lui si mette assieme un'altra persona e va è proprio un approccio completamente diverso che ci permetterà più avanti di fare delle considerazioni dicevo questo tentativo lo fa ma che cosa fa va e verifica che in quel settore lì è praticamente non impossibile ma probabilmente molto difficile salire il monte bianco e qui non solo ha ragione ma dimostra di avere anche una visione importante dei settori del monte bianco tant'è che proprio sul versante dell'isciò ci sono alcuni dei itinerari più difficili di salita del monte bianco oggi quindi lui aveva già visto all'epoca che era un settore estremamente difficile da affrontare siamo nell'agosto ma poi a settembre ritornerà e farà un tentativo dalla cresta nos di saint gervais cioè da un altro settore ancora cioè lui sta esplorando tra l'altro del prossimo tentativo che farà parleremo più avanti ma comunque si stanno iniziano davvero a susseguirsi tentativi esplorazioni e tra l'altro di quelle che paccard fa fa una relazione dettagliata che manda auras benedict de sazur un professore ginevrino che che ha stimolato la salita al bianco con la sua proposta di un compendio economico paccard non ha bisogno di questo lo fa solo per una ragione scientifica per la sua passione ma manda una relazione dettagliata della quale è dispiaciuto di non poter fornire dati perché nei suoi tentativi il barometro si rompe e non può dare dei dati scientifici all'altro ma sta di fatto che da ginevra ora benedict de sazur è entusiasmato è galvanizzato da questi tentativi che vengono a fare al monte bianco lui ci terrebbe però comincia a insinuarsi il fatto che ma è proprio vero che io semplicemente devo star qui aspettare che arrivi nella relazione degli altri che fanno il tentativo al monte bianco o io stesso potrei provare ad andare ma non tanto per avere il primato lui che interessa che sia conquistato il monte bianco e comunque comincia a immaginare di mettersi in campo anche in prima persona e poi vedremo perché mi fermo qui quest'oggi solo perché ne approfitto per rispondere a un acquisito che ha posto antonello e perché però ci permette di fare alcuni ragionamenti ma allora salire il monte bianco in quell'epoca è come oggi salire l'everest la risposta è no è molto più difficile allora il monte bianco come abbiamo detto da poco si sapeva che era una montagna specifica e precisa da poco si sapeva che era la montagna più alta d'europa ma forse perché le elevazioni metriche non erano fatte non esistevano sentieri tracciati neppure per portarsi in alto sulla montagna si andava in mezzo ai boschi e i bricchi e in qualche modo si cercavano dei passaggi non esistevano conoscenze della fisiologia non in quota non esisteva un'alimentazione non c'erano tecniche consolidate non esisteva un equipaggiamento specifico non si sapeva assolutamente nulla si andava verso l'ignoto e vedremo che c'è anche un noto in molto importante di cui non abbiamo parlato di cui non parlo perché lo rileveremo quando arriva il momento tra alcune puntate e le tecniche che si usavano certo per amor del cielo richiamano un po' le tecniche malayane se noi andiamo a vedere no mettevano le scalette per superare i crepacci come adesso si fa per attrezzare l'icefall la grande cascata di ghiaccio che sale verso il monte Everest mettono le scalette di metallo con le funi queste scalette di metallo facevano parte ovviamente del corredo che una spedizione che andava verso il monte bianco portava vedete che c'è il portatore delle scalette guardate una cosa particolare le due guide in questo caso tengono un bastone orizzontale alla quale si aggrappa il signore che li ha soldati per il tentativo di salita i crepacci venivano addirittura superati in alcuni casi semplicemente con delle pertiche cioè con dei legni che venivano messi da un altro l'altro per superare delle spaccature tecniche che erano estremamente pericolose poiché non tenevano conto delle consistenze della nevi c'erano alcuni elementi salire l'Everest oggi è una cosa diversa e lo dimostra questa questa è un'immagine scattata nel 2019 dove in una buona giornata per la vetta ben 250 persone hanno effettuato il tentativo di salire sono rimasti in coda come vedete sull'Hillary Steep il passaggio più tecnico per la salita all'Everest 300 metri sotto la cima lassù siamo verso la cima questa dimostrazione che le cose sono un po' diverse tra l'altro se vi farà piacere se vorrete terminato il racconto del cercatore di cristalli vi potrò raccontare di due cose ad esempio dell'anno della vergogna dell'Everest del 2019 e di che cosa è accaduto di quali sono le retroscena di tutto questo eccetera e di un altro evento importante che ha come dire appiattito completamente e aperto nuovi orizzonti delle difficoltà imalaiane e cioè di una persona che in meno di sei mesi ha salito tutti e 14 gli 8.000 e questa però è tutta un'altra storia ma certamente ha il fascino dell'alta quota ha il fascino delle montagne più alte del mondo ma allora nel 1700 scalare il Monte Bianco era anzitutto un esercizio mentale prima che tecnico prima che fisico che ovviamente sono indiscursi straordinari mentale perché voleva dire davvero rompere degli schemi straordinari dei limiti enormi che si avevano culturalmente all'interno della società e forse questa è la difficoltà maggiore che hanno i personaggi di cui raccontiamo di questa vicenda del Monte Bianco grazie a tutti